Un uomo originario di Udine, Tiziano Scovacricchi, di 68 anni, è stato trovato privo di vita su una spiaggia di Capoverde nel primo pomeriggio del 25 dicembre. Il suo corpo, come riferito dall'emittente capoverdiana Ertesè, è stato rinvenuto da alcuni turisti nella parte est dell'isola di Sao Vicente, nell'area di Praia Grande. Biologo marino in pensione, Tiziano Scovacricchi era figlio dell'ex parlamentare e sottosegretario di Stato friulano Martino Scovacricchi. Il 68enne pare si fosse trasferito nell'isola africana la scorsa primavera. Stando a quanto trapelato finora, sarebbe uscito di casa la mattina del giorno di Natale per fare un bagno nell'oceano Atlantico. A causare il decesso potrebbe essere stato un malore.